Buonasera e bentrovati cari amici di Padre Pio TV, alle 19 puntuali come ogni venerdì siamo in onda con l'armonia della vita e come sempre a mio fianco c'è Don Vincenzo D'Arenzo, qui do il benvenuto, bentrovato, ciao Don Vincenzo. Grazie Leonardo e un saluto a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Dunque questa sera cominceremo potremmo dire la seconda parte del nostro stare insieme perché dopo aver analizzato l'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia, a Moris Letizia abbiamo come dire svoltato e oggi inaugureremo un nuovo modo di stare insieme. Avete già visto inquadrata la nostra ospite che è Tarcisi Appennelli. Buonasera, bentrovata. Buonasera, bentrovata. Perché Tarcisi è qui con noi? Perché noi da stasera vogliamo per certi versi affrontare quel cammino di santità che i santi hanno percorso in famiglia, ecco non è un gioco di parole ma è vita concreta, vita vissuta, lo faremo a partire dall'esperienza di Padre Pio. Il titolo della puntata di questo oggi infatti è Nazareth rendere normale l'amore. Allora Don Vincenzo noi vogliamo partire con la catechesi di Papa Francesco che ci rende un po' più specifico questa tematica. Lo vediamo insieme e poi torniamo qui in studio a commentare e a sentire la bella esperienza della famiglia di Padre Pio e di Padre Pio in famiglia. Partiamo con il Papa. Ciascuna famiglia cristiana, come fecero Maria e Giuseppe, può anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo, parlare con Lui, custodirlo, proteggerlo, crescere con Lui. E così migliorare il mondo. Facciamo spazio nel nostro cuore e nelle nostre giornate al Signore. Così fecero anche Maria e Giuseppe. E non fu facile. Quante difficoltà dovettero superare. Non era una famiglia finta. Non era una famiglia irreale. La famiglia di Nazareth ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia. E come accade in quei trent'anni a Nazareth, così può accadere anche per noi. Far diventare normale l'amore e non l'odio. Far diventare comune l'aiuto vicendevole, non l'indifferenza o l'inimicizia. Non è un caso, allora, che Nazareth significi colei che custodisce, come Maria che, dice il Vangelo, custodiva nel suo cuore tutte queste cose. Da allora, ogni volta che c'è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci e all'opera. E viene per salvare il mondo. E questa è la grande missione della famiglia. Fare posto a Gesù che viene. Accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni. Che Gesù è lì, accoglierlo lì, perché cresca spiritualmente in quella famiglia. Dunque, allora, la parola chiave è normalità. Ecco, ci piace pensarla in questo modo. Prima, preparando un po' la puntata, abbiamo accostato Nazareth a Pietrelcina, che abbiamo visto sotto gli occhi dei riflettori qualche giorno fa, fino a poche ore fa, per via del 135esimo compleanno di Padre Pio, ma anche a Sisi, per riprendere l'esperienza di Francesco. E allora, Don Vincenzo, osservando questa sacra famiglia, abbiamo visto, Papa Francesco l'abbiamo ascoltato, ecco, ognuno di noi può riscoprire la propria chiamata. Ecco, quello che ti vorrei chiedere è come possiamo rendere le nostre famiglie normali, visto che normale è la parola chiave di quest'oggi, alla luce dell'esperienza della famiglia di Nazareth. Beh, rendere normale la famiglia, l'amore in famiglia, significa vivere la famiglia nella sua esperienza quotidiana. Gesù, certamente, ha imparato dal volto, dallo sguardo della madre, dalle mani di lavoratrici del papà in quella bottega, certamente ha imparato tutto quello che poi ha insegnato attraverso la parola e attraverso gli esempi. Quindi rendere normale la famiglia significa partire da quello che in famiglia si vive, da quella che la famiglia è. Il Papa, nel video che ci ha preceduto, diceva che è una famiglia reale quella di Nazareth. Ecco, noi in queste catechesi proposte dalla Diocesi di Roma, su un mandato sempre di Papa Francesco, come catechesi in preparazione immediata al decimo incontro mondiale con le famiglie. Ecco, vogliamo provare a vedere come quest'amore familiare, vocazione e via di santità, questo è il titolo dell'incontro mondiale delle famiglie, viene poi vissuto nelle famiglie di alcuni santi. Naturalmente questa sera siamo partiti dal santo di casa, ecco, e non poteva che essere così. Quindi cercare di scrutare ciò che, come Padre Pio ha imparato nella sua famiglia, per esempio l'idea della misericordia. Mi è molto piaciuto ciò che lui scrive in un tema, Il bacio della mamma, un tema che ha scritto descrivendo questo bacio. Provo a leggerlo perché è bello quello che scrive Padre Pio. O quando sono dolci ed affettuosi i baci delle madri, scrive, essi sono come tanti dardi da ferire i cuori più duri dei figli ingrati. Chi è mai colui che è a ricordarsi delle tante cure materne e dei tanti baci che esse ci hanno impressi sul volto quando si era piccini, non può fare a meno di non pensare ad esse? Fra i tanti baci che l'affettuosa mia mamma mi ha impressi sul volto, uno più di tutti è quello che mi ha lasciato impresso nel cuore, che al solo pensarvi non posso trattenermi da rompere in questa esclamazione «Oh madre mia, quanto mi hai amato!» Ora però, essendone al caso, brevemente mi accingo a descriverlo. Erano già trascorsi 40 giorni da che io mi trovavo fuori di casa passando le vacanze in casa di mia zia, che trovasi in un paese che dista circa 40 chilometri dal mio. I genitori, nell'accordarmi l'ubbidienza di andare al paese di mia zia, dissero che di lì a 40 giorni dovevo trovarmi a casa. Ma sfortuna volle che alla fine dei 40 giorni la zia e tutti di casa vollere assolutamente trattenermi con loro altri tre giorni. Trascorsi poi che furono questi tre giorni, con mio sommo dispiacere dovrei licenziarmi dalla zia, dai cugini, dai cugini e montare su di una carrozza in compagnia dello zio per prendere la volta del mio paese. A casa la mamma, non vedendomi ritornare al tempo che giustamente se lo prometteva, ne era grandemente addolorata e piangeva lacrime inconsolabili. In questi tre ultimi giorni non fece altro se non che uscir di casa e dirigersi lungo la strada per la quale io dovevo tornare, per vedere se mi vedesse comparire. Finalmente, nel giorno del mio ritorno, siccome mi trovavo affacciato allo sportello della carrozza, avendomi riconosciuto da lontano, tutta frettolosa e con viso festeggiante, corsi a me e trattomi fuori dalla carrozza, mi abbracciò e, stampandomi mille baci sul volto, piangeva di consolazione. O sì, come rimassero impressi al cuore questi dolci baci della mamma. Un racconto semplice di un bambino che, dopo 40 giorni che sta fuori di casa, si vede accogliere così impazientemente, starei quasi a dire, dalla mamma. Però ecco, io le collego con quello che poi sarà Padre Pio. Padre Pio è il santo della misericordia. Papa Francesco lo ha voluto insieme con San Leopoldo Mandic nell'anno della misericordia a Roma, ha voluto le sue spoglie e lo ha ditato come modello di misericordia. Padre Pio, nelle sue confessioni, nella guida spirituale delle persone, anche se qualche volta lo ricordiamo un po' per qualche carattere un po' più burbero, ma era di un'affettuosità unica. A volte i suoi occhi, a volte pieni di lacrime per la persona che si trovava di fronte. Ecco, faceva ricordare loro quella misericordia, che è la misericordia di Dio. Ricordiamo la misericordia che l'Evangelista Luca ci racconta nel suo Vangelo, del padre pieno di misericordia che accoglie i suoi figli, che si pone da lontano a vedere quando il figlio ritorna. Ecco, a me sembra di vedere questa mamma che esce sulla strada, il figlio lo aspetta con ansia, sono tanti giorni che è mancato. Io sono certo che è in famiglia che si impara questa via di santità e nella normalità di un bacio ricevuto da una mamma, di un'attesa, di un andargli incontro, che poi si sperimenta questa bellezza della vita cristiana, che poi diventa stimolo per tutto quello che siamo chiamati a compiere successivamente. Mi piace molto Don Vincenzo la frase che Papa Giovanni Paolo II ha utilizzato nella Familiaris Consorzio. Un po' che, direi, riassume questo bel tema che tu hai letto del nostro padre Pio e che potremmo poi in qualche maniera anche allargare a tutte le famiglie. La famiglia riceve appunto la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. Qui in questo sta proprio la normalità delle nostre famiglie e che prende spunto, come abbiamo avuto modo di ascoltare anche dalle parole di Papa Francesco, proprio da questa famiglia di Nazareth, che è la Sacra Famiglia, ma è una famiglia che è vissuta nella normalità. E allora, a proposito poi di famiglie vissute nella normalità, tra pochissimi istanti, subito dopo la pubblicità, ascolteremo l'esperienza in famiglia di Padre Pio, perché i Santi, come dice Papa Francesco, sono persone della porta accanto che in qualche maniera rendono visibile quella misericordia con piccoli gesti o gesti grandi che siano, ma che davvero poi danno la via a quella che è appunto la santità. Allora noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo ancora qui con l'armonia della vita. Restate con noi. Eccoci in diretta. Dunque stavamo chiacchierando con Tarcisia riguardo a storie di famiglia relative al nostro Sampio. Allora io verrei subito da te, ti ringrazio ancora una volta per essere con noi, perché parlare di Padre Pio e poi parlare del rapporto in famiglia di Padre Pio è sempre bello, perché ci aiuta a cogliere la santità nel quotidiano di questo grande personaggio. Ecco, la normalità, per riprendere un po' la parola chiave di questa puntata, rendere normale l'amore. Allora io Tarcisia, ecco, partirei proprio dalla tua esperienza. Ti lascerei la parola chiedendoti di raccontare il tuo Padre Pio, il tuo zio Pio, come lo... Il nostro. Il vostro zio Pio. Il nostro zio Pio, perché per noi era zio Pio e riagaggiantomi alla parola di Papa Francesco, era normale per noi. Avevamo capito, a parte che eravamo più o meno piccolini tutti quanti, avevamo capito che era una persona importante, però per noi era zio Pio. E zio Pio era per noi il capofamiglia, perché mio padre e mia madre qualsiasi decisione da prendere, la prendevano dopo aver parlato con lui. Per noi era la presenza più importante della nostra famiglia. Poi nonno Michele, il fratello, viveva con noi. Quindi per noi era normale, proprio la vivevamo benissimo. È un'atmosfera bellissima, perché quando riuscivamo a incontrarci, o andavamo tutti in convento da lui, o lui veniva a casa di nascosto, ma poi di nascosto non si riusciva mai. Ed era bellissimo, perché ci prendeva in giro, ci faceva sorridere. Era il parente più tenero che si possa desiderare. E mio padre, Mario Pennelli, che andava tutte le sere a metterlo a letto con il confratello assistente, tutte le sere ci portava un messaggio di zio Pio, o qualche caramella, qualche pensierino da parte sua c'era sempre. E prima di andare ci diceva sempre che cosa devo dire a zio Pio. E noi gli raccontavamo i nostri problemi, lui ci rispondeva sempre. E' una cosa così bella il rapporto e l'atmosfera che abbiamo vissuto noi, che veramente, credimi, è difficile raccontarla e renderla, come dire, concreta. Magari anche farla comprendere un po' alle persone. Anche perché per lungo tempo, sia mio padre che mia madre, ci avevano insegnato sempre a stare un passo indietro. Sì, esatto, volevo chiederti proprio questo, perché a me, diciamo, della vostra famiglia mi ha sempre un po' colpito questo vostro stare un po' indietro, ecco, il dare la precedenza ai figli spirituali, ecco, che poi sono quelli che padre Pio si è scelto, ecco, per un certo senso. Voi invece è sempre un passo indietro? Sempre un passo indietro perché mio padre voleva che non, come dire, non ci vantassimo di questa cosa. e quindi sempre un passo indietro, un passo indietro. Però crescendo mi sono resa conto di aver sentito tante di quelle cose che non erano vere, non erano vere. E dicevo, ma perché non parlare? Ecco perché io tutte le volte che mi chiedono di parlare, ora ne parlo. Ma non perché voglio mancare a questo atteggiamento che è stato per lungo tempo così, però è anche importante dire chi era appunto in famiglia San Pio, per noi zio Pio. Don Vincenzo, non so se vuoi intervenire. Sì, ecco, in questo clima di normalità della famiglia, mi piace anche qui raccontare un po' la sua... Sono racconti che prendo da una guida di Pietrelcina, scritta da padre Guglielmo Alimonti e dei suoi figli spirituali, figli spirituali di padre Pio. Soprattutto con una sua sorella, Felicita, che poi è morta abbastanza giovane. Ecco, con Felicita aveva un rapporto di grande confidenza. Padre Pio rivelò ad Ettore, figlio della stessa Felicita, passava tutti in casa per bontà e bellezza, Felicita. E ancora, io quando ero a Pietrelcina, tante volte, mentre lei si lavava, non c'erano allora i lavandini a mano, erano lavandini alla buona, le andavo dietro, le pigliavo la testa e poi gliela tuffavo nell'acqua. Tanti dispettucci le facevo. È abbastanza dispettoso, eh? Tanti dispettucci... È vero. Tanti dispettucci le facevo. E lei mai una volta mi rispose inquieta. Eh, Fran G, ma tu non la vuoi finire mai con me? E sorrideva. Da giovane e poi da grande, si conservò buona e semplice. Alla morte, avvenuta il 25 settembre 1918, venne a prenderla il figlioletto pellegrino, volato in cielo a quattro anni, con tutti gli angioletti intorno e dietro vedo, parole della morente, la testa di padre Pio. Questo da parte di Felicita. Ecco, è questa un po' quella normalità nella quale diventiamo santi. Io sono molto grato personalmente a Papa Francesco perché già nella sua enciclica sulla santità, ecco, parlava appunto dei santi nel loro quotidiano, nel loro diventare santi, appunto nei rapporti in famiglia, con i vari membri della famiglia. Questo giocare, e non è l'unico, padre Pio era molto, molto allegro, ecco, contrariamente a volte, ripeto, a quello che si pensa, allegro anche con alcuni compagni. Spesso preferiva rimanere da sole quando vedeva che i compagni non usavano i mezzi cristiani, ecco, diremmo così, già da piccolo. Però con il cugino Mercurio aveva un rapporto molto bello. a Piana Romana un giorno scherzavano e lui dormiva in un carretto con dei covoni e Mercurio gli fece quasi una specie di tomba. Lui quando si svegliò non vide più la luce e un po' si spaventò e invocava l'aiuto della mamma che le venisse incontro. E poi però non se la tenne perché quando era Mercurio a dormire su un altro carretto lui lo avviò e dice che se non avesse, se non si fosse fermato di fronte ad un albero di pero che fermò quel carretto, chissà dove sarebbe arrivato poi quel carretto. È bello vedere, ecco, questa santità che cresce nei rapporti con la mamma, con il papà, con i fratelli, le sorelle perché è lì che si vive e si impara a diventare uomini e si impara a diventare santi. Tarcise, tu hai di fronte, ce l'ha anche Don Vincenzo, la fotografia di Padre Pionzo, se la riusciamo a vedere, eccola, sì, sorridente. Tu hai sottolineato questo fatto che lui fosse un po' burlone. Pumlone, era tenero, per esempio papà diceva che la sera quando si fermavano prima di andare a letto con alcuni confratelli, con lui, raccontava le barzellette. Raccontava barzellette, era questa immagine che hanno sempre dato di lui, di burbero, di scostante, ma non è vero, lui si difendeva dall'assalto che gli facevano i suoi figli spirituali, tutta la gente che gli stava addosso, gli tagliavano il cordone dell'abito per portarselo via, gli strattonavano il braccio, le mani. Poverino. Insomma, non era una cosa da poco. E poi la persona che mi ricordo proprio con grande tenerezza, padre Giuseppe Pio, Bill, l'americano, ne avrete sentito parlare, che ora pure nessuno lo nomina più, che aveva un modo di parlare tipo staglio e olio, ma le risate che si faceva con lui era bellissimo e quando all'ultima messa stava per cadere, se non fosse stato per lui, cadeva veramente. Quindi era, io ricordo che di Zio Pio era la persona più dolce e serena, certo che era rigoroso, questo è normale che lo fosse, però è un rapporto normale, sereno, pacato, non come lo descrivono. Poi per noi otto aveva un amore proprio per noi otto e per mio cugino Pio Masone, figlio di Ettore, figlio di Felicità, era, ci seguiva passo passo, ci diceva la via che dovevano prendere i nostri studi, per esempio, Orazio ha detto di fare il medico, a Fofoglia ha consigliato legge, cioè ci seguiva, veramente ci seguiva. E quindi, che devo dire, è una cosa bellissima, è la frase che io ripeto sempre, perché secondo me è la frase che veramente rende l'idea di quello che abbiamo vissuto. Mia madre, Pia Forgione, che poi era la sua cocca, che l'hanno... Vabbè, anche i santi hanno i loro preferiti. Sì, sì, no, anche perché era rimasta orfana, ripeto, e anche nonno Michele, insomma, l'hanno viziata mia madre e lo meritava. E era, diceva sempre, e io l'ho fatta mia questa frase, lo dico sempre perché rende l'idea, mia madre diceva quando penso a lui come zio, non penso che è un santo, quando penso a lui come santo, non penso che è mio zio. E questo è il dualismo che è difficile da rendere, perché noi lo trattavamo come, ripeto, il capofamiglia e lo vivevamo normalmente, normalmente. Poi eravamo piccolini, tutto sommato. Vincenzo, questa forza, secondo te, perché di tale si tratta, ecco, da dove arrivava da parte di Padre Pio? Beh, la forza che Padre Pio ha vissuto nella sua esperienza bella col Signore, con la Madonnina bella, no? Che aveva. Era la forza che gli derivava da una fede sperimentata, vissuta e che insieme, ecco, in famiglia ha sperimentato nel quotidiano. Mamma Giuseppe era quella che forse lo conosceva un po' di più, perché, secondo anche i tempi, la cultura, la mamma era quella che stava più in casa, che lo conosceva e che lo avviava a quel cammino di fede, ma di una fede semplice, di una fede genuina. quindi è una forza che gli deriva dall'incontro con il Signore e dall'esperienza poi vissuto proprio nella sua famiglia. Anche perché bisogna dire che sia nonno Orazio e il papà, Orazio e non Grazio come ho già spiegato, emigrò in America per un po'. E anche il fratello, nonno Michele, il papà di mia mamma, anche lui andò in America. Quindi lui ha creato questo rapporto con la mamma proprio simbiotico, perché, insomma, loro sono dovuti andare a cercare fortuna come si usava tanti anni fa. e sono tornati con quello che erano riusciti a racimolare. Hanno comprato quel pezzo di terra a Piana Romana dove c'è il famoso Olmo e dove lui andava a pregare. Quindi la storia è importante, la storia che ha le spalle. E mi ricordo che mamma ci raccontava, perché poi eravamo un po' più piccoli, quanto ha sofferto quando fu recluso e né mamma, né papà, né nessuno, né nonno Michele, nessuno poteva andarla a trovare. È stato bruttissimo, proprio brutto. Allora, noi ora dobbiamo purtroppo fermarci per la pubblicità, però riprenderemo tra pochi minuti questo racconto di normalità, di vita normale da parte del nostro padre Pio, che io penso, ecco, auspichiamo, ecco, possa essere utile anche per le tante famiglie che ci stanno seguendo. Restate con noi a tra poco. Eccoci allora in questa ultima parte del nostro programma L'Armonia della vita vogliamo un po' continuare ad approfondire questa storia di famiglia, ecco, come magari molti di voi la stanno apprezzando, quella di padre Pio con i suoi affetti più cari, con coloro i quali ecco condividono il suo stesso sangue. Allora, Tarcisia, ecco, io vorrei un po' riprendere il discorso delle recite che ci dicevamo un po' chiacchierando fuori onda, perché anche quello era un momento di festa per la vostra famiglia. Sì, sì, era molto molto bello, perché questa recita era il copione lo faceva Zia Cleonice Morcaldi, il protagonista era quasi sempre mio padre e quindi si faceva per il 25 maggio il suo compleanno o in un'altra data, ma quasi sempre era il 25 maggio. E anche lì, quando c'era questa recita, noi ci mettevamo tutti seduti attorno a lui ed era bello, perché o ci tirava i capelli o ci prendeva in giro, ci faceva ridere e noi assistevamo e poi qualcuna delle mie sorelle le più grandi facevano le comparse ed era un'atmosfera bellissima di allegria, di serenità e a lui piaceva molto. E quando c'era qualche scena un po' più violenta che riguardava mio padre, cominciavamo a piangere disperati e lui un po' si divertiva perché cercava di calmarci per dire una recita papà sta bene e un po' otto bimbi che piangono non era una cosa da poco e quindi doveva scendere mio padre dal parco a farci vedere che era vivo e che stava bene. Quindi un ricordo sereno, sempre un ricordo sereno e anche quando veniva a casa in genere Zio Pio si fermava a casa nostra quando andava a votare scendeva a votare e si fermava però purtroppo la privacy era impossibile perché quasi tutti lo sapevano e c'era un'ondata di gente che non si riusciva nemmeno a parlare e quello era un po' bruttino perché avremmo voluto godercelo un po' in santa pace mentre a volte riuscivamo ad andare a volte su in convento nella sala San Francesco e lui faceva le domande a ognuno di noi che fai fai il bravo dici le preghiere e lì era un'atmosfera rilassata e lui era come dire dolce sereno ci guardava con un amore sconfinato è stato troppo bello troppo bello Tarcisa mi piace anche sottolineare che dal lato umano poi si affianca anche diciamo il lato risoluto permettimi perché è lui che ha deciso gli indirizzi poi da buon padre di famiglia da capo della famiglia come l'hai definito anche tu decideva gli indirizzi di ciascuno di voi gli indirizzi ovviamente personali di studio professionali io per esempio io per esempio cominciai la prima elementare piccolina la primina che allora ancora non esisteva e ebbi un calo della vista un po' pesantino e lui si impose e dice ritiratela da scuola perché così diventa cieca e infatti poi mi ritirarono da scuola mamma e papà mi hanno potuto curare poi io sono andata con un anno di ritardo e non sono diventata cieca non ho una vista d'aquila però cieca spero di dicevi anche di tuo fratello che poi a Orazio si ci teneva che facesse il medico si si ci teneva molto era a ognuno di noi dava il suo consiglio Domincenzo beh vorrei in questo quadro che non perdessimo di vista anche il santo stigmatizzato certo ma è bello proprio inserirlo in questo quadro perché così si capiscono ancora di più era il suo modo di partecipare di essere presente nella famiglia che poi sarà la famiglia religiosa dei suoi confratelli poi sarà la grande famiglia dei suoi figli spirituali di tutti i devoti che si rivolgevano a lui e anche questo è diventato come dire è a scuola è alla scuola di famiglia un po' che l'ha imparato ecco ricordo tra gli episodi che quando aveva dieci anni promosso a scuola il papà gli aveva promesso che l'avrebbe portato in gita una volta a Napoli poi un'altra volta in un santuario vicino a Pompei un santuario non era proprio Pompei e in questo santuario vide un fatto straordinario cioè una mamma che portava nelle sue braccia un bambino deformato nel suo corpo potremmo dire e pregava intensamente e lì successe un miracolo che il ragazzo si alzò e incominciò a parlare e padre Pio non voleva più staccarsi e il padre ricorda di quegli occhi che si rivolgevano al Signore pregavano condividendo la vita e la storia di questo ragazzo ecco quello del condividere è stato poi per padre Pio ecco diciamo uno dei segni delle stigmate certamente manifestazioni mistiche ma che sono anche quella accettare nella propria vita la sofferenza di tanti per i quali ha sofferto per i quali ha pregato per i quali ha offerto se stesso come vittima come lui stesso dirà per tanti peccatori ma anche per tanti bisogni di altro tipo ed è bello che per esempio questo lo viveva già da piccolo con la nonna e quando sentiva suonare la campana andava dalla nonna che normalmente partecipava alla vita di preghiera della comunità e voleva andare qualche volta gli hanno detto ma tu non hai ancora mangiato dice non fa niente che non ho mangiato andiamo in chiesa perché sono lì a pregare della nonna lui stesso descrive in un altro un altro tema presente nell'epistodio descrive un po' la figura di questa nonna la mia nonna conta 70 anni scriveva è di statura comune e di presenza venerabile ma è di robusta tembra e forte bianca alla faccia ma tutta aggrinzita la testa piccola e i capelli quasi del tutto bianchi la fronte leggera sopracciglio curvo ed abbassato naso aquilino gli occhi vivaci al sommo e brillanti ella è senza dottrina però è eloquente e ripiena di una naturale prudenza e perciò è ufficiosa negli amici misericordiosa nei poverelli nelle conversazioni utile nei consigli cauta nelle esecuzioni rapida e nei suoi detti risposte argute e grave frequenta la chiesa più e più volte al giorno non mancando mai spesso di confessarsi e comunicarsi come non vedere in questa sua esperienza raccontata così semplicemente da bambino non vedere la sua vita futura che già incominciava lì nella famiglia e ritorniamo un po' a questo tema della normalità lo è stato per Gesù lo è stato per Padre Pio ne sono certo lo è stato per tanti santi i santi nascono in famiglia e lì vedono i valori essenziali della vita è umana e cristiana e non è un caso Don Vincenzo se non ricordo male l'altra puntata non quella di settimana scorsa la precedente tu ci davi una definizione del matrimonio di Padre Pio che è bellissima l'armonia della vita sì l'armonia della vita era un'altra ora quella che c'era dietro l'immaginetto e questa immaginetta che questa volta ho portato e che dice esattamente così la vita non potrà mai essere completamente felice perché non è il cielo né completamente infelice perché ne è la via e è la normalità sì perché nella vita ci sono le cose belle e ci sono anche i momenti difficili e di fronte ai momenti belli non ci dobbiamo esaltare perché il cielo verrà dopo ma neanche deprimere perché è questa la via che ci porta poi a vivere il cielo bene allora io direi che abbiamo detto tanto su Padre Pio ma tanto ancora ci sarebbe da dire ovviamente perché la sua vita davvero offre innumerevoli spunti di riflessione noi però purtroppo ci dobbiamo fermare con il nostro programma però io ti ringrazio Tarcisia grazie a te per averci portato un po' di Padre Pio qui nel nostro studio e penso che anche i nostri amici a casa abbiano davvero apprezzato questi racconti che avvicinano questa figura se mai ce ne fosse il bisogno ecco a quella delle famiglie io direi Don Vincenzo allora per chiudere Padre Pio un santo di famiglia l'espressione penso più corretta per definirlo è un santo che si è fatto ha incominciato ad essere tale in famiglia ed è un santo di famiglia che ci deve accompagnare tutti per cui anche il mio saluto questa sera è proprio questo nessuno si deve scoraggiare nella famiglia possiamo trovare quella normalità dell'amore nel quale vivere crescere e santificarci grazie Don Vincenzo grazie Tarcisia e speriamo di rivederci presto grazie a tutti quanti voi noi ci rivediamo venerdì prossimo con una nuova puntata dell'armonia della vita buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti